In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, vi do gli avvisi di questa settimana. Allora le sante messe seguiranno l'orario solito nei giorni festivi, alla domenica, cioè alle ore 10 e 30, nei giorni feriali invece alle 8. L'adorazione eucaristica la faremo venerdì sera alle ore 21. Tutte le sere ci sarà comunque l'appuntamento di preghiera per il Sacro Capo di Gesù. In questa settimana, in più delle altre volte, in più delle altre volte ci sarà la benedizione dei sacramentali. Quindi preparate il sale, l'acqua, l'olio, chi vuole anche l'incenso. Questi sono i sacramentali. In più la benedizione degli oggetti, in genere, e delle medicine. Questa benedizione ci sarà martedì 22 giugno, alle ore 18, in diretta. Sia lodato Gesù Cristo e buona domenica. In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen.